Questa è la cronistoria di quello che è accaduto ieri sera, parliamo delle 20, in assemblea poi la giunta è stata fatta alle 19 fino alle 20, 21. Come avete sentito l'onorevole assenza era un po' dispiaciuto, era piccato come si dice in queste cose per il comportamento di Schifani, perché questo fatto di non essere riusciti a salvare alcuni deputati, lui era proprio il relatore da avvocato, insomma era il relatore però non ci sono riusciti, quindi era abbastanza arrabbiato. Crisi, ora crisi credo che sia un po' troppo, anche se però come vi dicevo ieri sono segnali e tutte queste notizie che dicono ma guardate che probabilmente questa legislatura durerà di meno, possono trovare anche delle conferme su certi atteggiamenti, su alcune cose, come abbiamo già detto le opposizioni sono organizzate, lo ha detto il PD, lo ha detto il Movimento 5 Stelle, lo ha detto Cateno De Luca, noi delle opposizioni ben organizzate saremo in grado di combattere alle prossime elezioni, se sono oggi, se sono fra sei mesi, se sono fra un anno, l'ultima cosa che ripeto è stata ribadita ieri è questa volontà di arrivare alle elezioni provinciali perché la provincia, le province hanno bisogno di essere ricostituite e il fatto di essere state 15 anni dipendenti, uffici, messi là a girarsi i pollici, senza offesa, non è che lavorassero come si lavorava prima, con piccoli compiti, secondo me le province sono importanti, anche se qualcuno dice di no, per me sono molto importanti. Un accenno, abbiamo fatto nell'intervista, che fa riferimento ai manager, io non è che li conosco tanti, ma vi posso dire quello che riguarda il manager di Ragusa, poi gli altri nomi sono pubblicati su tutti i giornali, ci sono manager di aziende che gestiscono davvero centinaia di milioni, la nostra è una delle più piccole e come alla fine posso dire sia un fatto abbastanza positivo che il manager è un personaggio del territorio, come il Caccio Lavallo, è nostro e quindi in qualche modo conosce la realtà, oltretutto Pino Drago, di cui ora parleremo, lo vedete, ha avuto anche carichi importanti nella nostra provincia e quindi alla fine che sia arrivato a fare il manager credo che sia una cosa positiva. Classe 59, si è insediato stamattina, lui è stato reduce dell'incarico di direttore sanitario degli ospedali Vittoria Comiso dal 2015 al 2018, quindi ringrazia per l'opportunità, ha avuto oggi, questa mattina è venuto il passaggio di consegne fra il dottor Fabrizio Russo, il cui mandato è scaduto, quindi finalmente non credo che poi neanche lui fosse tanto contento. Quali sono le problematiche più incombenti che dobbiamo segnalare noi, ma loro stessi sanno? Il sovraffollamento del pronto soccorso e quindi bisogna arrivare a ridurre le liste di attesa. Più in generale, bisogna migliorare l'accessibilità ai servizi sanitari, ad esempio facilitando il pagamento del ticket, ma anche garantendo il bisogno di salute dei cittadini attraverso una migliore integrazione tra ospedale e territorio e abbattere la mobilità passiva all'interno dei nostri presidi. Molte branche specialistiche hanno raggiunto picchi d'eccellenza grazie ai lavori incessanti dei medici e degli operatori. Allora, di questo parleremo, come vi ho detto, fra un po' quando avremo qui in studio l'amico Peppe Lizio, che è stato in ospedale per 16 giorni e capita proprio di dire, ma come ti sei trovato? Facciamo come quel programma, quello di Barbieri 4 Hotel, come ti sei trovato? Com'era il bagno? Com'era il corridoio? Era riscaldato bene? Vediamo, con questo ne parleremo. Comunque ci sono infine obiettivi a lunga scadenza che richiedono un approccio sintemico e ragionato. Si prenderà cura, dice Pino Drago, di tutto quanto con accuratezza e senso di responsabilità. Chiaramente si è appena inserato oggi, noi avevamo altro da fare, siamo stati alla questione degli agricoltori, di cui parleremo ampiamente, insomma non siamo riusciti ad intervistarlo, ma lo faremo con calma, devo stare qua qualche anno, quindi lo faremo con calma cercando di capire proprio queste difficoltà di cui si è sempre parlato e vediamo come potrebbero essere in qualche modo risolti. Chiudiamo questa parte dedicata alla sanità e anche alla crisi regionale e torniamo a parlare di questa storia dell'aeroporto di Comiso. Il senatore Salemi, non sono riuscito ad intervistarlo perché oggi aveva una cosa con il prefetto, ah no aspetta, devo tornare un attimo indietro, scusa la regia, fammi vedere il dottore Pino Drago, perché, questa è una cosa, dice come, manco si è insediato, perché arriva un comunicato di Roberto Ammatuna, il dottore Ammatuna, che dice la nomina di Drago eticamente pessima, il dottore, intanto il sindaco di Modica, scusate, di Pozzallo è un medico, un medico che ha avuto incarichi importanti, è stato responsabile della questione, diciamo pronto soccorso negli ospedali. Iblei e lui dice, la nomina di Giuseppe Drago a commissario straordinario che preclude, dopo l'esame della prima commissione legislativa dell'Ars, alla nomina di direttore generale dell'Ars, quindi è chiaro, in questo momento sono commissari, poi diventeranno direttore generale, non può non suscitare sorpresa e sconcerto. Drago è stato uno dei protagonisti delle stagioni più buie e scandalose della sanità in provincia di Ragusa negli ultimi decenni, sono accuse molto dure. La grave situazione sanitaria della provincia di Ragusa presupponeva maggiore cautela, equilibrio e senso di responsabilità, una scelta eticamente pessima, del tutto inopportuna e poco rispettosa. Lo dice il sindaco di Pozzallo parlando del dottore Drago fu stretto collaboratore dell'allora direttore generale dell'ASP, Aricò, che provocò tante proteste per la sua pessima gestione e per questo motivo alla fine del 2017, insomma ha avuto tanti problemi, lui tra i due direttori generali che non furono confermati nella stessa sede. Che vuol dire? Effettivamente io ricordo Aricò, quello col farfallino, ve lo ricordate il dottore Aricò che poi ebbe una fase, addirittura ci fu, ma noi l'abbiamo tutta questa registrazione, ci fu un consiglio comunale aperto del quale Aricò fu frustato in diretta, perché c'era anche la diretta streaming, cioè Aricò fu trattato malissimo e lui aveva avuto come colpa, io non voglio difenderlo perché non è la mia, io ricordo che lui aveva avuto la colpa di tentare il trasferimento del vecchio ospedale di Ragusa, il civile, portarlo all'ospedale nuovo, prima ancora che ci fossero tutte le condizioni ottimali con tutte le autorizzazioni, poi intervenne la guardia di finanze, i vigili del fuoco e lui fu costretto a ritornare indietro dopo aver speso un bel po' di soldi, avevano smontato delle attrezzature, le avevano riportate nel vecchio, quello fu un periodo brutto e poi anche lui diciamo che aveva avuto parecchie critiche, comunque io non so in che rapporti fosse con Aricò, questo lo dice Roberto Ammatura. Cambiamo, dicevo, argomento e torniamo a parlare di infrastrutture, ma prima dell'aeroporto di Comiso perché dicevo il senatore Salemi era impegnato col prefetto, non siamo riusciti a sentirlo, ma stamattina all'incontro quello degli agricoltori al comune c'era la senatrice Daphne Musolino che come voi ricordate era con il movimento di Cateno da Luca, poi ora è con Italia Viva, diciamo che ha subito il fascino di Renzi, gli ha detto Cateno da Luca, è una persona molto diretta, parla, allora io gli ho chiesto ma voi di Comiso che cosa ne sapete? Allora lei ha detto a parte la questione della continuità territoriale che purtroppo è una questione burocratica che ha bisogno di tempi precisi perché deve essere fatto il bando, chi lo fa questo bando deve essere portato a Bruxelles, chi lo porta a Bruxelles, ma poi a Catania ci interessa veramente questa storia della continuità territoriale che si fa a Comiso? Io sono convinto che non è così e in qualche modo credo di capire che anche Daphne Musolino la pensa allo stesso modo. Vediamo questa intervista.